partiti in vantaggio Dragatea davanti a Mr. King Mr. Romaldo Montefano Star Queen Any Given Monday Castle Ward e Dillo alla Luna dopo 400 metri di corsa passa Montefano Montemario davanti a Dragatea Mr. Romaldo Mr. King Any Given Monday Star Queen Dillo alla Luna e Castle Ward all'inizio della curva prosegue in vantaggio Montemario davanti a Mr. Romaldo con all'interno Dragatea seguono Any Given Monday Mr. King Star Queen Dillo alla Luna e Castle Ward poco prima dell'ingresso indirittura è sempre in vantaggio Montemario davanti a Mr. Romaldo Dragatea e Any Given Monday i cavalli entrano indirittura con Montemario in vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Mr. Romaldo seguono Star Queen a centro pista Dillo alla Luna con all'interno Any Given Monday seguono Dragatea e Castle Ward e in leggero vantaggio Montefano attaccata all'esterno da Star Queen a centro pista Dillo alla Luna con all'interno Any Given Monday e leggero vantaggio Star Queen davanti a Any Given Monday e Mr. Romaldo e quindi praticamente potremmo avere lo stesso lo stesso significato che ci suggerisce Gabriele che sta a casa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti